Benvenuto al professor Pier Giorgio Odifreddi, buonasera, questa è V per Virginia, matematico, divulgatore scientifico, scrittore, saggista, autore di molteplici libri, fra cui è uscito da qualche mese il libro C'è del marcio in occidente di Raffaello Cortina, editore. Nel servizio a cura del collega Gabriele Cappi abbiamo fatto un po' il punto su quello che sarà il nostro tema di discussione oggi in questa puntata rispetto a quella che viene considerata ancora oggi una potenza, una superpotenza esportatrice di democrazia, di pace, stiamo parlando chiaramente degli Stati Uniti d'America, una idea che per anni lei stesso ha avuto per poi rivalutarla insomma completamente ci spiegherà il perché, però parto da lontano e le cito due personaggi importanti, lontani anche nello spazio e nel tempo, John Quincy Adams, sesto presidente degli Stati Uniti d'America nel 1821 diceva l'America non va in giro per il mondo in cerca di mostri da distruggere, però lei stesso il libro lo titola C'è del marcio in occidente, quindi si allarga, non parla solo di Stati Uniti ma appunto di occidente, allora spostiamoci in Europa, le cito stavolta Robespierre che nel 1792 affermava la più stravagante idea che possa nascere nella testa di un politico è credere che ad un popolo basti entrare a mano armata presso un popolo straniero per fargli adottare le sue leggi e la Costituzione, nessuno ama i missionari armati e il primo consiglio che danno la natura la prudenza e di respingerli come nemici. Allora professore partiamo dalla domanda principale, cioè cosa è successo questa trasformazione, come se la spiega? Ci siamo dimenticati anche quanto detto da Robespierre e John Quincy Adams? Non so quanto Robespierre studiasse la stella faceva, ma studiarla forse se l'era dimenticato anche perché in realtà alla fine del Settecento erano già tre secoli che l'Occidente si era espanso in tutto il mondo, da Colombo in avanti ma anche prima i portoghesi nel Quattrocento avevano già circunnavigato l'Africa, imposto le rotte verso l'India, certo dopo un po' queste cose poi vengono prese come se fossero dei fatti e si guarda soltanto magari al passato prossimo oppure addirittura al presente, ma in realtà anzitutto è l'Occidente intero che ha conquistato l'intero mondo e oggi l'impero americano è effettivamente l'erede dell'Occidente perché anche noi in Europa che facciamo parte dell'Occidente siamo, non dico una colonia, però ovviamente sottomessi ai voleri degli americani. Le cifre tra l'altro sono impressionanti, abbiamo sentito che il 40% delle spese mondiali degli armamenti le fanno gli Stati Uniti, sono una piccola parte, se ci mettiamo anche l'Europa dentro che è un altro 20%, il 10% del mondo ha 60% delle spese militari, c'è qualcosa che non funziona. E la Russia invece? La Russia paradossalmente spendeva, adesso non so bene in questi anni di guerra probabilmente molto di più, ma prima della guerra spendeva 60 miliardi l'anno di dollari che è la stessa cifra che spendevano da sole la Francia, oppure la Germania, oppure l'Inghilterra e così via. Quindi noi l'abbiamo sempre considerato lo spauracchio, qualcuno diceva vuole arrivare fino a Lisbona, ma a meno che Putin fosse veramente un matto come poteva immaginare di voler arrivare fino a Lisbona. Infatti si è visto tra l'altro, anche la guerra in Ucraina dimostra l'estrema disparità che c'è fra gli armamenti russi da una parte e quelli della NATO dall'altra, che soltanto con le briciole, con i vecchi armamenti che si tirano fuori dalle cantine e si scaricano in Ucraina, si riesce benissimo a fermare la guerra a 200 chilometri dal bordo, dal confine. Purtroppo la narrazione è una cosa e poi i fatti sono altri, ma infatti li abbiamo sentiti, 800 basi per esempio. Se mettiamo insieme le basi della Russia, perché uno dice ma la Russia quanti ne ha? Sommiamo le basi della Russia, della Francia e dell'Inghilterra che sono tre potenze nucleari e tre dei cinque membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ne hanno 20 in tutto, 20 contro 800. Cioè si capisce che c'è qualcosa che non funziona negli Stati Uniti, o meglio funziona benissimo, ma non funziona dal punto di vista ideologico. Ma questa dicotomia fra il mondo buono, esportatore di democrazia, il cosiddetto asse del male e il mondo contro, quindi è una narrazione basata su cosa? Sul fatto che a noi piace sempre pensare di essere nel giusto, quindi noi siamo i buoni ovviamente, e quelli che non la pensano così e che non sono disposti ad accettare le nostre idee diventano l'asse del male. Spesso l'asse del male è stato identificato con i paesi che non accettavano il gioco coloniale o poi in particolare il gioco degli Stati Uniti. l'Iran per esempio, ma l'Iran è arrivato perché? Perché ha sostituito il regime dello Shah, che già una volta era stato buttato giù negli anni 50 con una elezione e gli americani l'hanno rimesso sul trono, poi gli iraniani se ne sono sbarazzati dopo un po' e certo poi dopo alla fine uno si cova le serpi in seno, diciamo così. Henry Kissinger, ex segretario di Stato americano, diceva nel 1969 dal sud non può venire nulla di importante, la storia non è mai stata prodotta nel sud, l'asse della storia parte da Mosca, passa per Bonn, attraversa l'oceano fino a Washington e poi arriva a Tokyo, però a questo punto tolto il sogno americano, implosa l'ex Unione Sovietica, cosa rimane? Possiamo parlare adesso, non si fa che parlare del mondo multipolare con protagonisti i BRICS che si sono riuniti anche recentemente a Kazan, in Russia per il sedicesimo vertice, lei diventano sempre più grossi tra l'altro, si allargano sempre di più, Cioè sono una valida alternativa a questo punto? Beh, naturalmente sono molto eterogenei, quindi ci sono nazioni all'interno del BRICS che non sono completamente d'accordo fra loro, però è una specie di matrimonio di convenienza, se uno prende l'India per esempio, l'India fa parte del BRICS ma fa anche parte del Quad, che invece è un'alleanza che sta dall'altra parte del Pacifico insieme al Giappone, al Canada, agli Stati Uniti, e allora uno dice ma da che parte stai? La Turchia fa parte della Nato. Certo, loro se ne gloriano per esempio gli indiani, soprattutto il ministro degli esteri che è molto articolato da sentire, fa sempre piacere, Jay Shankar, lui dice abbiamo molti amici, dice dove è il problema, no? L'importante è effettivamente giocarle bene queste cose, però il BRICS credo che col passare del tempo sta diventando, già da qualche anno, quasi una decina d'anni che è stato fatto agli inizi, sembrava semplicemente incollato così, col puto come si potrebbe dire. Adesso sta diventando anche attrattivo per molti paesi, l'Arabia Saudita per esempio, che sembra aver abbandonato il patto con gli americani, patto che tra l'altro la costringeva a vendere il petrolio a chiunque in dollari, in cambio ovviamente dell'aiuto militare e così via, è scaduto l'ultima tranche dei 15 anni, da qualche mese e non è stata rinnovata ed è passata appunto formalmente nei BRICS e quando si comincia a avere un'alleanza in cui la maggioranza della popolazione mondiale è presente e se non la maggioranza ma comunque una buona fetta del PIL anche, perché credo sia il 40% del PIL mondiale, si comincia a capire che quella è un'alternativa, bisognerà vedere se è una valida alternativa, se poi al momento in cui ci si dovesse scontrare fisicamente, cioè militarmente con gli Stati Uniti poi l'alleanza terrebbe oppure magari si sfalderebbe. Sicuramente un'alternativa economica al G7 anche. Soprattutto economica, la Cina sta cercando di tenerla soprattutto dal punto di vista economico, tra l'altro ci sono delle notizie che a volte passano molto inosservate che secondo me invece avrebbero dovuto tenere i titoli dei telegiornali, perché quando Xi Jinping è venuto in Europa poche settimane fa, credo un paio di mesi fa, di fronte ai giornalisti parlando alla von der Leyen, disse Biden ha cercato in tutti i modi di spingermi a fare guerra a Taiwan e io non ho abboccato. Ora uno dice, ma scusa, la narrazione credevamo che fosse voi che volevate andare, perché Biden cercava di spingere Xi Jinping a fare guerra a Taiwan? Perché sanno che adesso la guerra si vincerebbe, cioè gli Stati Uniti andrebbe in guerra e la Cina probabilmente non è pronta. E quello che Xi Jinping voleva dire dice, noi abbiamo i nostri tempi, quando saremo pronti ve lo faremo sapere e credo che in Russia sia successa più o meno la stessa cosa, cioè si è cercato di spingere la Russia con le provocazioni dell'estensione della NATO a fare guerra, la Russia c'è cascata, effettivamente sta spendendo un sacco di soldi e di vite umane e si vede che il risultato non c'è, forse avrebbe dovuto aspettare, non l'ha fatto però, ma Xi Jinping sì. Senta, rispetto a questo suo cambio di visione sull'Occidente, sugli Stati Uniti d'America in particolare, immagino abbia contribuito il fatto di averli vissuti da dentro, no? Perché già dalla fine degli anni settanta lei si è trasferito lì, ha vissuto per tanti anni l'America di quel periodo, oggi come la vede? C'è ancora una involuzione a picco o non so? Qualcuno teme di sì o pensa di sì perché per esempio nelle elezioni che stanno per esserci tra la Harris e Trump, adesso la propaganda per esempio da parte democratica è che Harris è un fascista, però vista dal di fuori noi non vediamo grandi differenze per esempio in Occidente nella politica estera americana. C'è una grossa differenza tra la politica della Harris e la politica di Trump all'interno, cioè il modo in cui si considerano cose anche da noi magari importanti, tipo il diritto all'aborto per le donne, no? Oppure la questione dell'immigrazione, lì c'è una differenza. Ma quando poi si parla per esempio delle crisi in Medio Oriente oppure in Ucraina o della potenza americana, cioè tutti e due cantano all'unisono e quello che a noi interessa, non essendo americani, è proprio quello che vediamo, diciamo così, un muro qualunque sia il presidente. Tra l'altro se posso dire, prima citavamo Quincy Adams, il quale parlava pochi anni prima però di un presidente, si chiamava Mongro, che arrivò e enunciò la famosa dottrina mongro, che era espressa in una maniera molto diplomatica, cioè l'America agli americani, che però andava intesa in un senso molto preciso, l'America, il continente americano agli americani, cioè agli Stati Uniti e quello fu, cioè gli Stati Uniti erano i padroni del continente americano fino alla seconda guerra mondiale, diciamo così, anche già un po' la prima. Adesso sono diventati il padrone del mondo interno perché sono l'unica superpotenza rimasta. La Cina non è ancora pronta appunto, come diceva Xi Jinping, abbiamo i nostri tempi, non l'abbiamo abboccato e a questo punto è veramente l'unico impero, se c'è un impero del male è quello, se ce n'è uno solo. Senta, una critica che alcuni le fanno è che lei è un matematico, un divulgatore scientifico, quindi non può parlare di esteri e geopolitica, come risponde? Prima abbiamo parlato della rivoluzione francese, ma chi si credevano che facesse per esempio le leggi elettorali o che scrivesse la Costituzione? Il marchese di Condorcet che era un matematico o il Cavaliere di Bordà che è il primo che ha fatto appunto le prime leggi elettorali, c'è tutta una teoria delle scienze sociali, diciamo così, delle scelte sociali che è fatta da matematici, hanno preso un sacco di premi Nobel per l'economia perché poi serve anche appunto quando la si applica alle questioni economiche e il problema è che molti umanisti non lo sanno e credono che per parlare di politica bisogna, che ne so, aver fatto il politologo e studiato al liceo classico e leggere le odi di Pindaro, quello va bene se vuol parlare della politica della Grecia, dei tempi antichi, ma quella moderna è diventata una scienza come tante altre cose al mondo e se non si conosce la scienza spesso si va a sbattere il naso, ma i presidenti degli Stati Uniti ad esempio lo sanno e hanno un team di esperti ad esempio di teoria dei giochi, che è una teoria matematica, che dice quali sono le alternative possibili quando ci sono delle situazioni di conflitto, le presenta al presidente e poi lui deve scegliere, spesso lo fa alla cieca perché il presidente non è un esperto di questo, ma a questo servono gli esperti. Allora a proposito di matematica e quindi di numeri, lei dice un grosso problema è che fin quando il 10% della popolazione mondiale deterrà il 90% della ricchezza, cioè la situazione non potrà mai cambiare? Basta vedere in una famiglia, se arriva una torta... Ma questo 10% si può identificare? Il 10% siamo sicuramente noi, cioè l'Occidente, l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, poi ovviamente sono 800 milioni, quindi ci sarà anche un centinaio di milioni che sono invece distribuiti nelle altre potenze del mondo, per esempio gli origarchi russi e non soltanto quelli russi, c'è una buona fetta per esempio in India che abbiamo citato prima, anche lì ci sono delle punte, però questo 10% in buona parte raccoglie l'Occidente e 10 a 90 è una cosa molto... se uno vuole cercare di capirlo, 10 a 90 vuol dire che se la torta fosse divisa in parti uguali, metà e metà, noi avremmo nove volte di più degli altri, il problema è che non è divisa metà e metà, è divisa appunto 90% e allora 9 per 9 fa 81 e significa che ogni persona in Occidente consuma come 80 persone nel resto del mondo, ogni bambino che nasce, noi abbiamo il problema della natalità, ma ogni bambino che nasce qui poi alla fine consumerà come 80 bambini nel resto del mondo, nell'America, in Africa, in Asia e così via. bisogna stare attenti perché siamo ovviamente squilibrati dal punto di vista numerico e non possiamo immaginare come invece continuiamo a dire vogliamo esportare il nostro sistema in tutto il mondo, ma non si può esportare un sistema in cui 10% consuma il 90% della ricchezza perché non tutti possono consumare il 90%. Tornando alla questione Stati Uniti, sono curiosa di sapere quando lei si è trasferito, erano dicevamo gli anni? Io sono andato la prima volta a studiare negli Stati Uniti nel 1978, quando oltre voi magari anche la mamma e papà non erano ancora nati e sono stato lì per due anni, ho studiato prima sulla costa est nell'Illinois vicino a Chicago e poi a UCLA in California nella costa ovest invece. Poi sono tornato nell'85 fino al 2003 sono andato davanti e indietro in Italia, insegnavo là e qua, quindi per più di vent'anni praticamente. E questo cambio di visione quando è venuto? Il cambio di visione è che io sono andato con il mito americano, che cosa sapevo degli Stati Uniti? Niente, se non quello che vedevo nei film, i film che arrivavano da Hollywood naturalmente, queste erano poi tra l'altro prima di quella piccola rivoluzione che ci fu poi a Hollywood quando arrivò la guerra in Vietnam in cui si cominciò anche a parlarne in maniera magari critica, no? Prima i film di Hollywood, Hollywood è un ministero della propaganda americana, cioè che ha diffuso nel mondo intero i film che presentavano il sogno americano come lo intendevano gli americani e dicevano che erano i buoni, che erano i cattivi, una volta erano i pelle rossa naturalmente, un'altra volta erano ovviamente noi, cioè i nazisti e i fascisti e così via, in Corea e poi quando è arrivato il Vietnam ha cominciato un po' a traballare, il servizio lo diceva. Paradossalmente benché gli Stati Uniti abbiano questa enorme potenza militare, poi però le guerre le perdono quasi tutte. In Corea si è bloccata la situazione più o meno come succederà in Ucraina, cioè sulla linea del fuoco, del cessato del fuoco, non c'è stata la pace da quando era il 1953, credo, della crisi coreana e la situazione rimane così. In Vietnam hanno dovuto scappare a gambe levate, io mi ricordo nel 1975 la gente appesa agli elicotteri, nel senso che li vedevo in televisione, in Afghanistan siamo stati 20 anni in Afghanistan e in Iraq, anche lì in Afghanistan siamo scappati sei mesi prima che Putin entrasse in Ucraina, anche questa è una cosa paradossale, è vero, Putin ha invaso l'Ucraina e uno che ami la pace dovrebbe dire ma un paese che era autonomo, cioè è stato invaso in un'altra grande potenza, sono contrario, ma noi avevamo finito una guerra di 20 anni in Afghanistan, che poi era la quarta guerra che gli occidentali facevano, perché già nell'Ottocento gli inglesi ne avevano fatte due, poi una agli inizi del Novecento non è che si andava in Afghanistan per caso, quello è un crocevia che ovviamente fa piacere a tutti controllare, c'erano stati anche i russi e così via. Noi pensiamo che quando gli altri invadono un paese facciano malissimo, ma quando noi lo invadiamo lo facciamo per portare alla democrazia. Doppio standard? E dopo standard, certo, unico standard, va bene solo quello che va bene a noi. Le faccio sentire una breve dichiarazione dello scrittore Valerio Massimo Manfredi sul concetto di impero. Sentiamolo. Tutti gli imperi sono fondati sul sangue e tutti gli imperi sono destinati a cadere. Quello che fa la differenza è quello che rimane dopo. Molti imperi scompaiono dopo aver lasciato un campo di sterminio, di rovine, di stupri, di massacri e niente altro. Cosa rimarrà dell'impero americano secondo lei? Anzitutto il nostro modo di vita non sarà così facile da cambiare, perché certo dovremmo radicalmente ripensarlo. Noi pensiamo anche spesso che portiamo in giro due grandi cose, cioè che sono la democrazia da una parte e il capitalismo dall'altra, senza accorgerci che in fondo la democrazia è un sogno che sarà stato bello da sognare, ma un sogno vecchio ormai di quasi tre secoli, o due secoli e mezzo, la rivoluzione francese, quella che l'ha introdotta. Però i nostri sistemi sono ancora quei sistemi lì, quelli che citavo prima, pensati da Condorcet, da Bordat, dai padri fondatori degli Stati Uniti e della Repubblica Francese e oggi non funzionano più. Quando il 50% o meno del 50% va a votare e si decide chi comanda, quando quello che comanda prende il 50% di quelli che sono andati a votare, significa che il 20-30% delle persone comandano, ma quella è una minoranza. Una volta si diceva attenzione alla democrazia perché potrebbe diventare la dittatura della maggioranza. Se io prendo il 50% più 1% e poi governo, o peggio ancora, se ho il 70-80% è lì che diventa il problema. Sono la grande maggioranza e metto sotto il tacco la piccola minoranza, diventa una dittatura della maggioranza. Ma qui ormai c'è solo più la minoranza, diventa una dittatura della minoranza che si chiama semplicemente dittatura. Poi noi tra l'altro facciamo durare le legislature per esempio 5 anni, ma questo andava bene nell'Ottocento quando non c'erano i mezzi per poter comunicare, quindi non si poteva fare cambiamenti veloci. Oggi con i mezzi che abbiamo potremmo chiedere direttamente a volte per le grandi questioni il parere dei cittadini e degli elettori. Noi ci guardiamo bene da chiederlo, per esempio la Costituzione italiana dice chiaramente che non si possono fare referendum su questioni di politica estera, le guerre le facciamo noi, non pensate di dirci a chi farle o come farle. Quindi l'idea di democrazia è una bella idea, però certamente è da ripensare, è da rendere moderna, adatta ai tempi nostri e il capitalismo è la stessa cosa. Si diceva che il capitalismo non ha le pastoie che avrebbe invece il comunismo, però come diceva Kennedy l'alta marea quando sale tira su i transatlantici ma tira su anche le barchette, quindi dobbiamo essere tutti contenti se qualcuno si arricchisce. E oggi abbiamo visto che invece in realtà negli ultimi due secoli dalla rivoluzione industriale di inizio ottocento fino ad oggi la disparità al mondo è quasi raddoppiata, cioè oggi nel mondo d'oggi ci sono più disparità quella che dicevamo prima, pochi ricchi che hanno molto e tanti poveri diciamo che hanno poco di quanto non ce ne fossero due secoli fa. Quindi sono due cose, la democrazia e il capitalismo che in fondo hanno fallito, che bisognerebbe ripensare prima di cominciare ad andarla a imporre agli altri dopo che le abbiamo usate noi malamente. Ma in questo fallimento della democrazia c'è anche una responsabilità diretta del cittadino perché prima lei diceva non si va più a votare, quindi come può funzionare l'ingranaggio? Io l'esempio che faccio in questi casi è se noi fossimo una Germania nazista e ci sono tre liste, una capitanata da Hitler, l'altra da Goering, l'altra da Goebbels, lei andrebbe a votare? No. Cioè io dico sì, posso anche andare, ma forse è meglio dire io non voglio avere niente a fare con quei tre lì e oggi in realtà il motivo per cui la gente non va a votare è anche quello perché da noi si andava a votare al 90%, 95% fino alla fine della prima Repubblica, gli inizi degli anni 90. Perché dopo c'è stato un crollo? Perché all'epoca c'erano alternative. Chi votava per il MIS, il Movimento Sociale Italiano, chi votava per la democrazia cristiana, chi votava per il Partito Comunista, proponeva una visione diversa del mondo. Oggi ci sono tanti partiti ma la visione è una sola. E allora a quel punto se intanto non cambiano le cose e cambiano soltanto le persone, alla gente interessa poco chi va a governare, ci interessa che cosa fa. C'è del marcio in occidente, è il libro del professor Pier Giorgio Odifreddi, di tutte altre idee è il giornalista e scrittore Federico Rampini che è uscito con un libro che invece si intitola Grazie Occidente. Lo ha letto? Non l'ho letto e non mi piace, come potrebbe dire la citazione dei benedetti il giornalista, però in realtà io conosco Rampini, so benissimo che cosa penso, perché sento anche i suoi video, abbiamo fatto un dibattito in radio e c'è un equivoco però, perché io dico c'è del marcio in occidente, ma la gente spesso mi risponde con due reazioni pavloviane, una pensa che sia c'è solo del marcio in occidente, ma c'è tanta roba che non funziona, Rampini si concentra invece sulle cose belle e io in buona parte sono d'accordo con lui, prendiamo per esempio il sistema dell'educazione, il sistema intellettuale e così via, e quello di cui noi tutti viviamo, quella è una parte buona dell'Occidente, ci sono tante cose interessanti, però il problema è che noi viviamo, se io vado in tribunale e mi accusano di un omicidio, non è che posso dire ma io faccio la carità a tanti, vabbè, quello è una brava cosa, magari ti daremo delle attenuanti, ma la tua critica è quella. E poi l'altro, diciamo così, fraintendimento è che c'è del marcio in occidente e da nessuna parte, solo in occidente c'è del marcio, ma anche quello, io non dico mica che solo noi abbiamo queste brutte caratteristiche, però forse è bene che noi guardiamo le nostre cose, che ci guardiamo allo specchio. Io direi di chiudere con un film, 1974, Alberto Sordi, lo cita anche lei nel suo libro, è una bellissima cosa, finché c'è guerra c'è speranza, lo ricordiamo ai telespettatori che ci seguono, Alberto Sordi in quel film interpretava un uomo sulla cinquantina che prima per tutta la vita aveva fatto il venditore di pompe idrauliche, poi diventa praticamente un venditore di armi, trafficante di armi e gira in lungo e largo il mondo arricchendosi, arricchendo se stesso e la sua famiglia. Sul finale si rivolge proprio ai suoi figli, alla moglie che insomma lo prendono un po' di mira rispetto a questo lavoro che svolgeva, di cui però erano in realtà consapevoli e beneficiari. sentiamo cosa dice Alberto Sordi. Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra che vogliono, vogliono, vogliono e non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano! Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare! Ecco perché si fanno le guerre! Quindi Sordi in un certo senso fa la morale non solo agli stati, alle lobby delle armi, ma ad ognuno di noi. Ognuno di noi ha una responsabilità. Certo, è troppo facile dire ah ci sono quelli che fanno le guerre, ma noi siamo così. Il nostro sistema di vita, le guerre si fanno per permettere a noi di vivere così, di consumare 80 volte quello che consumano le popolazioni nel resto del mondo. e allora dobbiamo farci effettivamente un mea colpa. Ma quindi come persona singola cosa possiamo fare di concreto per cambiare? Ci sono tantissime cose, dipende. Adesso non dico che uno si deve spossessare come Francesco D'Assisi, ma io faccio sempre un esempio perché tocca a tutti noi. Ed è il consumo di carne spropositato che si fa in Occidente. Ogni giorno 200 milioni di animali, 200 milioni vengono uccisi nel mondo intero naturalmente, non solo in Occidente, per essere mangiati. E un miliardo e 300 milioni di pesci ogni giorno, sono cifre spaventose. Ma la carne, a parte tutte le cose che si possono dire dal punto di vista anche sentimentale, cioè uno ammazza un animale che potrebbe essere il tuo gatto o il tuo cane, e il tuo gatto o il cane, no, ma la pecora e la mucca sì. Il problema è che il 90% delle coltivazioni, sempre lì il 90%, tra l'altro già un famoso economista Pareto aveva scoperto che spesso le proporzioni sono quelle 10-90 oppure 20-80, il 90% delle coltivazioni mondiali è fatta per i mangimi degli animali che noi mangiamo. Se noi cominciassimo per esempio a mangiare meno carne, o addirittura a mangiarla solo ogni tanto, tutto questo territorio che viene usato per i mangimi si potrebbe semplicemente impiegare per produrre vegetali, e i vegetariani costano molto meno al mondo. Questo è un altro vastissimo tema che magari tratteremo in una nuova puntata. Quello sarebbe molto interessante, certo. Volentieri. Allora l'aspetto. Grazie al professor Pier Giorgio Di Freddi per aver partecipato a V per Virginia, e grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo che le nuove puntate vanno in onda ogni domenica alle ore 21 su BioBlu. Grazie a tutti.